Triscioni e grandi cartelli con su scritto salviamo l'antico acquedotto romano di Pesero sono stati alzati questa mattina durante il sit-in non violento di protesta organizzato da alcuni cittadini in via Spallanzani nel quartiere Montegranaro di Pesero vicino alla scuola media Leopardi. Un flash mob promosso dagli aderenti al comitato tutela dell'acquedotto romano e della necropoli di Pesero per chiedere di non smantellare né rimuovere un tratto dell'acquedotto emerso proprio in quella via nei pressi del cantiere in cui sono stati ripresi i lavori per la costruzione di una nuova palazzina Lo stesso acquedotto ha servito Pesero nel corso della seconda guerra mondiale e ancora oggi porta acqua nelle nostre fontane e stabilimenti balneari un bene culturale fondamentale per i cittadini che potrebbe costituire anche un presidio ad uso didattico, di studio e di ricerca Noi vorremmo sapere perché è stato dato il permesso di costruire qui come in tanti altri posti dove passa il comitato per esempio per la costruzione della bretella e vorremmo sapere come verrà preservato questo tratto perché traslarlo cosa significa? Usare delle tecniche che comportano comunque un costo più di questa palazzina che verrà costruita Noi vogliamo preservare un acquedotto che ci serve da 2000 anni e che serve ancora Pesero E' importante che i cittadini sappiano l'importanza e rilevanza di questo acquedotto perché appunto si lavano anche al mare con l'acqua che viene da Novilara Questa manifestazione non vuol dire essere in guerra con le istituzioni è il contrario esatto quello che è il nostro sogno, il nostro obiettivo è arrivare a collaborare, a essere consulenti proattivi delle istituzioni per salvare una Pesero antica che è ancora meravigliosa e ha tante architetture abbandonate che possono essere preservate quindi l'acquedotto e le architetture meravigliose di una Pesero che assolutamente va salvata e valorizzata La domanda mia è come hanno fatto circa negli anni 1970 a poter costruire tutta la zona Loreto, Montegranaro e Muraglia praticamente con l'acquedotto sotto i piedi Se si poteva allora evitare quello che avete appena visto perché tanto fino in via Michelin e Tocci hanno costruito sopra senza problemi allora perché ora la domanda non può rimanere lì